Ciao a tutti e benvenuti. Oggi voglio far vedere come fare aumento a diritto singolare. Aumento a diritto singolare ci permette creare aumento senza una direzione precisa ma con tutte le maglie che procedono dritti. Qui sul campiuccino ho fatto più ferri per farvi vedere com'è il risultato di aumento che sono partita da una base piccolina e poi sono arrivata a crescere sempre mantenendo la maglia dritta senza una direzione precisa. Ora vi farò vedere con questo ferro di andata aumenti. Iniziamo. La maglia di vivaglio la faccio passare, non la elaboro. La prima la lavoro normale. Ora dalla seconda possiamo partire con la dimostrazione della tecnica dell'aumento singolo. Dobbiamo entrare dentro la maglia, vedete, in questo modo e fare un'elaborazione per il diritto normale senza però far scendere la maglia dal ferro di sinistra. torno a rifare un'altra elaborazione per il diritto nella stessa maglia, vedete, e solo ora faccio scendere la maglia e creo due maglie da una. Quindi faccio il mio aumento, guardate, una faccio uno diritto normale. Poi prendo la maglia che mi serve per aumento, entro da davanti, vedete, entro dentro la maglia, aggancio e creo una maglia per il diritto normale. Mi fermo qui senza far scendere la maglia dal ferro di sinistra e torno ad entrare di nuovo nella stessa maglia per creare una seconda, una seconda maglia, vedete. Quindi da una maglia ne escono fuori due. Un'altra volta faccio una normale e torno a rifare, guardate. Entro dentro, faccio un'elaborazione per il diritto normale creando una maglia ma senza far scendere quella vecchia perché mi serve per riutilizzarla e creare un'altra, vedete, rientro e creo un'altra maglia ed ecco che abbiamo fatto un aumento. Vedete, da una maglia ne abbiamo fatto due. Qui adesso, guardate, faccio un'altra normale e un altro aumento. sempre la stessa cosa, entro dentro la maglia, faccio un'elaborazione per il diritto normale senza far cadere quella vecchia, torno a elaborare nuovamente un'altra maglia per il diritto ed ecco che abbiamo fatto due mali da una. Vedete, da una maglia ne escono fuori due e così noi abbiamo fatto un altro aumento. Guardate un'altra volta. Così. Non la faccio scendere, mi fermo qui, torno a rifare un'altra dalla stessa maglia e solo dopo la faccio scendere così creo due maglie da una. E così che noi facciamo un nostro aumento singolare. Guardate, un'altra volta insieme. E adesso faccio scendere. Vedete? Semplice, semplice. Ecco, noi abbiamo fatto il nostro aumento che è un aumento molto semplice che ci permette, come ho già detto, mantenere la direzione senza avere una direzione precisa, prestabilita. Grazie. 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 Grazie.